Ciao ragazzi qui è GLW Games Siamo in un nuovo video come avrete visto dal titolo E' un video speciale Cioè non facciamo niente di che Anche perchè non c'è nemmeno Non c'è né Valerio né Leo Ma vorrei solo presentare Dato che siamo arrivati a 40-41 iscritti Il nuovo intro Cioè non è un nuovo intro L'ho fatto io, l'ha fatto Leo e l'ha fatto Valerio E voi tramite i commenti deciderete Qual è il meglio Ovviamente li metterò in ordine Del titolo, del canale Vabbè prima io, poi Leo Più Valerio, GLW Però vabbè Voi dovreste solo commentare nei commenti Ok ora sta arrivando il mio E eccolo qui Avete visto il mio Ora c'è quello di Leo Che sono molto simili Ma cambiano le canzoni e un po' di foto Quindi Vabbè Bella visione Alla fine c'è quello di Valerio Ehm Eccolo qui Unicorn Zombie Apocalypse Visto quest'intro Dovete decidere voi tramite i commenti Lo ribadisco Ehm se volete le canzoni Metto nella descrizione i titoli Ehm se siete nostri amici chiedete Ve li mando direttamente in un commento privato Spero che questo video vi sia piaciuto Decidete tramite i commenti L'intro che vi piace E lo metterò a ogni inizio video Ehm Mi raccomando Decidete bene Ehm Scegliete il mio No non è vero Dovete scegliere quello che più vi piace Vabbè Per questa puntata è tutto Ehm Questo video Deve raggiungere Tanti mi piace Tanti commenti Ehm Al prossimo video